Le numerose mattinate di ispezioni e monitoraggi delle coste, ma anche di sensibilizzazione e informazione sul riconoscimento delle tracce di tartaruga caretta caretta, continuano a dare i loro frutti. Allicata in località Rocca di Contrada Pisciotto, un cittadino, Carmelo, ha assistito ad un miracolo della natura. Una tartaruga caretta caretta ha deposto le uova sotto i suoi occhi. Anche se in piena notte ha contattato i volontari del WWF per sapere come comportarsi e come fare per proteggere il nido. Alle prime luci dell'alba, Gino Galia, del progetto Tartarughe WWF Italia e volontario del progetto Life Euro Tartors, è andato a verificare la veridicità della segnalazione che nottetempo gli aveva inoltrato il presidente del WWF Siciliaria Mediterranea, Giuseppe Mazzotta. E così, constatato il tutto, l'area è stata recintata. Per un paio di mesi il nido verrà custodito e monitorato in una zona che era stata più volte oggetto di interventi dei volontari del WWF. Ripartizione Faunistica, Guardia Costiera e Comune di Licata sono chiamati adesso a fare la loro parte, a supportare i volontari del WWF di Licata che, gratuitamente, con le loro forze, saranno sul posto quanto possibile. La biodiversità va salvata, scrive in un comunicato oggi il presidente Mazzotta, è nostro compito lottare con spirito positivo e propositivo perché la distruzione del pianeta non avvenga. Di pianeta Terra, conclude Mazzotta, ce n'è uno solo e non abbiamo uno di scorta.